Martedì 7 giugno 2016 siamo a Milano, più di 500 architetti hanno partecipato al convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, dal titolo Il futuro dell'edilizia. Progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile, questo è il tema dell'appuntamento di oggi, molti gli interventi scientifici, molte anche le aziende che hanno partecipato, vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Le sfide dell'edilizia del futuro a nostro avviso è ritornare a fare in modo che l'edilizia parli di progetto, parli di materia, mette in campo le capacità che ha e magari facendo in modo che una parte percentuale dell'attività dell'edilizia sia anche fatta di colaggio, di sfide e di ricerca. Riteniamo soprattutto che l'edilizia italiana sia un'edilizia capace, forse la sola, a poter parlare di progetto, deve rimettersi in connessione con quello che è sempre stata e questa è la sfida più importante ma ritengo che sia assolutamente possibile e necessaria. Il mondo dell'ingegneria, dell'architettura per noi è fondamentale e continuiamo a innovare e portare soluzioni innovative. L'ufficio del futuro è un tema su cui stiamo lavorando veramente tantissimo come HP e abbiamo tantissime aspettative per cui questo è anche il motivo per cui siamo presenti oggi in questo convegno. Per noi questa è la prima volta che affrontiamo un convegno insieme ad InfoProgetto, la troviamo una formula estremamente intelligente che ci dà la possibilità anche in una giornata di parlare sia con l'interlocutore e di avere il contatto diretto col progetto che è il nostro obiettivo finale. La collaborazione sta andando molto molto bene, abbiamo avuto tante richieste, tanti contatti molto molto interessati, alcuni appunto ci conoscono già da tempo, altri ci stanno conoscendo oggi e quindi è un'opportunità appunto per ampliare la nostra rete di contatti con gli architetti e sicuramente il risponso è molto positivo. Per noi è molto importante parlare direttamente con l'architetto anche perché il nostro è un prodotto molto tecnico e che va capito e quindi essendo una realtà InfoProgetto mirata direttamente all'architetto per noi è basilare. È la prima volta che noi siamo ospiti di questa organizzazione, siamo intervenuti e abbiamo innanzitutto constatato e questo ci ha animato il fatto che loro abbiano la possibilità di mobilitare un gran numero di persone e questo ovviamente è molto importante per chi come noi ha la voglia di entrare in un mercato che al momento non conosce ancora. Grazie per la visione! Ciao!